Gesù è il giusto, non è il pecatore, ma lui ha voluto scendere fino a noi, pecatori, e lui prega con noi. E quando noi preghiamo, lui è con noi pregando. Lui è con noi perché è in cielo pregando per noi. Gesù sempre prega con il suo popolo, sempre prega con noi, sempre. Mai preghiamo da soli, sempre preghiamo con Gesù. Mettiamo questo nella testa e nel cuore, Gesù prega con noi.